Ciao a tutti biscottoni d'ezio vostro e bentornati sul mio canale didattico Diago ti spiego nella sezione della matematica. In questo video ancora dedicato alle derivate vedremo le regole di derivazione. Vedremo solo le formule senza la dimostrazione e faremo ovviamente una serie di esercizi. Per affrontare questa lezione però dovrai sapere le derivate fondamentali che abbiamo visto nel precedente video, quindi vattelo a riguardare. Se non ti sei ancora iscritto al canale, fallo subito, attiva la campanella, lasciami un like, un commento, fai qualcosa. Oppure seguimi su Instagram. Vediamo se capisce qualcosa, va? Cominciamo con questa lezione dedicata ancora alle derivate ed in particolare alle regole di derivazione. Cosa ben diversa rispetto a quello che abbiamo visto nello scorso video in cui abbiamo studiato le derivate fondamentali, ovvero le derivate delle principali funzioni che incontriamo spesso. Ne ho scritta qualcuna qui sulla destra, non sono tutte quelle che abbiamo visto nello scorso video, ma le principali che incontreremo negli esercizi di quest'oggi. Se poi ce ne dovesse servire qualcun'altra, la aggiungeremo. Cosa sono le regole di derivazione? Sono delle regole che ci permettono di calcolare la derivata di una somma, di un prodotto o di una divisione di funzioni. In questo video vedremo 4 regole di derivazione. Per ognuna di queste regole, come nello scorso video, non faremo la dimostrazione, ma vedremo soltanto la parte pratica. Dedicheremo poi un video apposito alla loro dimostrazione. Cominciamo con la prima. Vogliamo calcolare la derivata di una costante k moltiplicata per una funzione f di x. Possiamo dimostrare che il calcolo di quella derivata può essere effettuato facendo k per la derivata di f di x. Cioè che vuol dire questa cosa? Se io ho una costante moltiplicata per una funzione, mi metto da parte la costante e mi calcolo la derivata solo della funzione f di x. Facciamo quindi un esempio e prendiamo la funzione y uguale 3x alla terza. Vogliamo andare a calcolare la derivata di questa funzione. Ora, vedete, nel nostro caso 3 è proprio il valore k, mentre la quantità x alla terza è la quantità f di x. Quindi come facciamo a fare la nostra derivata prima? Scriveremo che y' sarà uguale a 3 per la derivata di x alla terza. Ora, non dobbiamo scrivere tutte le volte 3 per d di x alla terza. Adesso lo facciamo all'inizio, poi dopo diventate bravi e quindi fate il calcolo automatico. E come facciamo a calcolare la derivata di x alla terza? Ebbè, ovviamente dobbiamo andare a utilizzare la derivata di x alla alfa e quindi farà 3 per x alla seconda. Quindi cosa otteniamo? 3 per 3x alla seconda. Quindi la nostra derivata sarà semplicemente 9x alla seconda. In buona sostanza che cosa bisogna fare quando devo calcolare questo tipo di derivata? Mi basta prendere questo numero qua, moltiplicarlo per il numero che sta lì davanti e poi abbassare di grado. Quindi la mia derivata prima sarà 24x alla terza. Ovviamente questo tipo di ragionamento vale per qualsiasi funzione io ho dopo la costante k, non per forza deve essere un polinomio. Quindi nel caso che vi ho scritto per esempio il logaritmo, la mia derivata sarà y' uguale 3 per la derivata del logaritmo. La derivata del logaritmo naturale è proprio 1 su x, quindi otterremo 3 fratto x. Analogamente per quanto riguarda seno e coseno, assolutamente. Vorrei far vedere un piccolo caso particolare che in realtà è abbastanza banale, però non lo considerate mai sotto quest'ottica. Anche la derivata di y uguale x si fa in questo modo. Per quale motivo? Perché semplicemente il nostro k in questo caso vale 1. A quanto sarà uguale quindi la nostra derivata? Sarò uguale a 1 che è k per la derivata di x. E quant'è la derivata di x? Ragioniamoci un secondo. Dovrei fare la formula x alla alfa uguale alfa per x alla alfa meno 1 dove alfa vale 1. Quindi cosa dovrei fare? Abbasso 1 e scrivo x alla 1 meno 1. Quindi ottengo all'esponente x alla 0, ovvero 1. Quindi la derivata di y uguale x è proprio 1. Per lo stesso motivo possiamo dire quindi che la derivata di y uguale 3x è uguale a 3 e la derivata di y uguale 5 quarti x è uguale a 5 quarti e così via. Qualunque sia il numero che c'è davanti a x, la derivata è proprio il numero davanti a x. Fatto con la prima regola, ragazzi. Passiamo alla seconda. La seconda regola di derivazione è davvero molto banale. Vogliamo calcolare la derivata di una somma di funzioni. Quando dico somma, ragazzi, intendo anche la sottrazione. Si può dimostrare anche in questo caso che questa derivata è uguale alla derivata della funzione f di x più la derivata della funzione g di x, ovvero ho scritto senza tutte queste d f' di x più g' di x perché abbiamo imparato che la derivata prima si indica con l'apice. Quindi davvero davvero semplice, ragazzi. Facciamo quindi subito un esempio cominciando con una funzione polinomiale. Quindi come potete vedere abbiamo un trinomio. Come si fa a calcolare la derivata prima? Devo fare la derivata di x alla terza, che sarà ovviamente 3x alla seconda, più la derivata di 5x alla seconda, che abbiamo visto due minuti fa come si fa perché c'è k davanti a x alla seconda, quindi si farà 10x. E per finire la derivata di 1. E qui in questo caso ci aiuta la derivata fondamentale di una costante che vale 0, quindi in questo caso non aggiungiamo niente. Prendiamo per esempio questa funzione qua in cui abbiamo un'esponenziale moltiplicata per 3 a cui vado a sottrarre un coseno. Per quanto riguarda la derivata dell'esponenziale è davvero facilissimo perché l'esponenziale ha come derivata se stessa, quindi rimane e alla x. Per la regola che abbiamo visto prima devo lasciare inalterato il numero davanti, quindi proprio 3 e alla x. Per quanto riguarda il coseno invece so che la derivata del coseno è meno seno, quindi quello che devo scrivere è meno meno sen x. Quindi quello che devo scrivere alla fine sarà 3 e alla x più sen x. Ecco fatto ragazzi, davvero molto facile. Facciamo un ultimo esempio con un logaritmo e un polinomio. Vedete anche in questo caso cosa devo fare. La derivata è logaritmo moltiplicata per 5, quindi sarà 5 per 1 fratto x. E poi devo applicare la regola di x alla alfa con il k davanti. Quindi per quanto riguarda 4x alla terza porto il 3 davanti che moltiplicato per 4 diventa 12 e x invece di essere elevato alla terza sarà elevato alla seconda. Nella terza regola di derivazione abbiamo a che fare con un prodotto tra due funzioni differenti tra loro e in generale non moltiplicabili. Quindi non posso fare nessuna semplificazione tra f di x e g di x. In questo caso possiamo dimostrare che cosa? Che la derivata di una moltiplicazione di funzioni è uguale alla derivata della prima funzione per la seconda funzione non derivata più la prima funzione non derivata per la derivata della prima funzione. Vediamo subito come fare con un esempio perché è più facile a farsi che a dirsi. Prendiamo la funzione y uguale x alla seconda per e alla x. Ora vedete quelle due funzioni che sono ovviamente rispettivamente x alla seconda e e alla x non sono in nessun modo semplificabili tra di loro quindi quelle rimangono così come sono. Quello che vi consiglio di fare in questo caso è un piccolo schemino che vi assicuro vi aiuterà tantissimo. Fate in questo modo. Chiamate la prima funzione f di x e ci scrivete x alla seconda e la seconda funzione g di x e ci scrivete e alla x. Dopodiché che cosa fate? Per ciascuna di queste vi andate a calcolare la derivata quindi f' di x e g' di x. Così trattate praticamente l'esercizio come se fossero due derivate singole. La prima derivata è ovviamente 2x. La seconda derivata rimane e alla x perché è la derivata dell'esponenziale che abbiamo detto rimane se stessa. A questo punto siamo pronti per andare a calcolare la derivata prima. cosa dobbiamo fare? Dobbiamo partire da questa qua e fare così. Moltiplicare questa per questa e quindi otteniamo 2x per e alla x e poi aggiungere che cosa? la moltiplicazione di quest'altre 2 ovvero x alla seconda per e alla x. Bene ragazzi la derivata è fatta però siccome noi siamo molto precisi quella derivata va sistemata. Infatti come potete vedere questo termine qua e questo termine qua hanno in comune la quantità e alla x e la quantità x e noi la dovremo andare a raccogliere. Quindi cosa scriveremo? x per e alla x. Apro la parentesi e dentro cosa devo mettere? Quei due termini divisi per x e alla x. Quindi dal primo termine mi rimane 2, dal secondo termine mi rimane x. Se vi state chiedendo perché dovete fare questa operazione, perché ve lo dico io, dovete cominciare a farla. In primo luogo perché sul libro trovate sempre risultati in maniera raccolta, in secondo luogo perché quello è un passaggio fondamentale per andare a calcolare i massimi e i minimi, argomento che tratteremo tra un po' di video. Quindi lo dovete da fare, non potete evitare di farlo, mi dispiace. Facciamo un secondo esempio in cui abbiamo a che fare con una funzione che presenta tre funzioni differenti, perché abbiamo x, 2 ln di x e coseno di x. Però, come potete vedere, queste due sono sommate tra di loro, quindi rappresentano tutte e due la funzione f di x, perché io le posso considerare insieme. Mentre la funzione coseno di x sarà la seconda funzione g di x. A questo punto fate il vostro schemino e andate a calcolare la derivata della prima funzione f di x, che sarà la somma di due funzioni. Ma abbiamo visto come si fa la somma di due funzioni dalla regola precedente. Quindi devo fare la derivata della prima funzione, che sarà 1, perché è la derivata di x, più la derivata di 2 ln di x, che sarà 2 per 1 su x. Per quanto riguarda la derivata del coseno, invece, è semplicemente meno seno di x. E adesso non devo fare nient'altro che comporre quelle cose che ho trovato. Quindi, come abbiamo detto prima, partiamo da f' e quindi facciamo questa per questo, ottenendo 1 più 2 fratto x, tutto quanto, per coseno di x. E poi aggiungiamo la moltiplicazione di queste altre due, quindi di questa per questa. Quindi scriveremo x più 2 ln di x per meno sen x. E qui, ragazzi, c'è veramente poco da aggiustare, perché se vado a guardare questo termine e questo termine, mi rendo conto che lì non posso raccogliere veramente niente. Quindi quella derivata rimane così com'è. È brutta, come il peccato, ma a noi non ci interessa. Prima di concludere con questa regola di derivazione, vi lascio con questa piccola osservazione. Esiste una regola, anche quando abbiamo a che fare, con tre funzioni moltiplicate, anziché due. Ora, questa regola di derivazione che vi ho scritto qua è molto molto lunga, perché dovete fare la derivata di tutte e tre le funzioni e poi combinare le cose tra di loro in modo da ottenere tre termini sommati tra di loro. Non ci interessa particolarmente, perché comunque possiamo ovviare all'utilizzo di questa formula. Quando infatti abbiamo a che fare con tre funzioni moltiplicate, ci basta considerare le prime due o le seconde due come una funzione soltanto. A quel punto, se questa per esempio la chiamo f grande di x, ho la moltiplicazione di nuovo tra due funzioni, che sono f grande di x e z di x. E quindi posso applicare il metodo che ho visto adesso per due funzioni moltiplicate. Come ultima regola di derivazione vedremo la derivata di un rapporto di funzioni, quindi invece di essere moltiplicate le nostre funzioni saranno divise. Come potete vedere non ho neanche cancellato tutta la formula della derivata del prodotto di funzioni perché è molto molto simile. Infatti per quanto riguarda il numeratore è praticamente uguale, solo che in mezzo ci sarà il meno, quindi derivata di quello sopra per quello sotto non derivato, meno quello sopra non derivato per la derivata di quello sotto, solo che poi devo dividere tutto quanto per il quadrato del denominatore. Facciamo subito degli esempi. Prendiamo subito una bellissima funzione fratta in cui abbiamo un polinomio al numeratore e un polinomio al denominatore. E anche in questo caso facciamoci il nostro schemino. Quindi f di x per noi sarà la quantità al numeratore, g di x invece sarà la quantità al denominatore. E andiamoci a calcolare subito subito le derivate. Quindi nel primo caso avremo 2x meno 0 perché vi ricordo che la derivata di una costante è 0, mentre al denominatore avremo 2 perché la derivata di 2x è 2 e la derivata di 5 è ancora 0. Adesso ragazzi mi raccomando non sbagliate, dovete prendere le cose con ordine perché il problema è che qui c'è un bellissimo meno. Quindi dovete partire necessariamente da f' cioè dalla derivata del numeratore. E quindi dovete fare la moltiplicazione di questi due esattamente come prima, quindi 2x per 2x più 5 meno la moltiplicazione di questi due e quindi potete scrivere 2 per x alla seconda meno 3. E poi ricordatevi tutto fratto il quadrato del denominatore, quindi di g di x. Ora non vi mettete a fare il quadrato di 2x più 5 ma lasciatelo 2x più 5 al quadrato, quello è già scomposto, fantastico. Quello che invece dovete fare purtroppo è fare i conti al numeratore. Con pochissimi passaggi ottenete quindi che la nostra derivata è 2x alla seconda più 10x più 6 fratto 2x più 5 al quadrato. Mi raccomando non sviluppate il quadrato al denominatore. Concludiamo con quest'ultimo esercizio in cui abbiamo x alla seconda al numeratore e un logaritmo al denominatore. Anche in questo caso ci facciamo il nostro bellissimo schemino, quindi il numeratore è f di x, x alla seconda, il denominatore è ln di x. E ci andiamo a calcolare le nostre bellissime derivate. Quindi f' di x sarà 2x e g' di x sarà 1 su x perché la derivata è logaritmo. A quanto sarà uguale quindi la nostra derivata? Partiamo da f' di x, quindi 2x, e lo moltiplichiamo per ln di x che sarebbe g di x. Poi facciamo meno f di x per g' di x, che è 1 su x. Tutto quanto diviso per logaritmo di x al quadrato, che lasciamo così. Quindi acconciamo per bene, vedete che possiamo semplificare la x con l'x alla seconda e ci viene 2x ln di x meno x fratto ln di x al quadrato. Non vi venga in mente di fare questa roba qui perché quella è da zero spaccato, quelle cose non si possono semplificare perché qui c'è un segno meno in mezzo. Quello che posso fare al massimo è raccogliere la x al numeratore. E mi raccomando, quando lo faccio sto raccogliendo questa x con questa x. Assolutamente no questa, quello è l'argomento del logaritmo che rimane lì dove è. Apro la parentesi e mi rimane 2ln di x, quindi vedete che ho lasciato la x, meno 1, il tutto fratto ln di x al quadrato che posso scrivere anche qui sopra, quindi ln quadro di x. Ecco fatto ragazzi, quella è la nostra derivata. E anche con questo video sulle regole di derivazione abbiamo concluso. Non vi preoccupate perché il prossimo video sarà interamente dedicato agli esercizi con le derivate fondamentali e con le regole di derivazione, perché dobbiamo diventare proprio bravi a farle altrimenti non possiamo andare avanti. Ci sono delle altre regole di derivazione che però non vediamo in questo video, ma per cui dedicheremo altri video appositi. Grazie per avermi seguito anche oggi e alla prossima!